Cinque anni e quattro mesi di reclusione per l'ex assessore comunale di Pescara Giacomo Cuzzi, cinque anni e due mesi per l'ex assessore Simona Di Carlo e per l'ex segretario cittadino del PD Moreno Di Pietrantonio e poi cinque anni per l'imprenditore Andrea Cipolla, quattro per l'imprenditore Cristian Summa, due per il promoter musicale Alessandro Michetti e dieci mesi per il socio di Cipolla Gianfranco Berardinelli, unica soluzione per la dipendente dell'ASL Leila Colucci, invocata invece l'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione per una durata di cinque anni per le società News Eventi SRL, Best Eventi 2 SRL, Eventi Live SRL e Share City SRL. Sono queste le richieste formulate oggi dal PM Luca Sciarretta al termine di una requisitoria durata oltre sei ore nell'ambito del processo sugli appalti per l'organizzazione dei grandi eventi a Pescara e sul presunto concorso pilotato alla ASL. Questo non è un processo politico o un processo ai partiti, ha detto oggi in apertura di udienza Sciarretta in aula. Non è un processo etico ma è un processo per reati contro la pubblica amministrazione. Sciarretta ha poi aggiunto che le ipotesi accusatorie non risultano assolutamente confutate dalle fonti di prova prodotte dalle difese. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, finanziamento illecito dei partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti. Ai politici imputati e in particolare a Cuzzi si contesta di avere affidato l'organizzazione di 21 concerti e spettacoli in una sorta di regime di esclusiva a quattro società che risulterebbero tutte riconducibili a Cipolla. Quest'ultimo, come contropartita, avrebbe garantito a Cuzzi contributi illeciti e finanziamenti elettorali che sarebbero stati elargiti in occasione delle campagne elettorali per le regionali del febbraio 2019 e per le comunali dello stesso anno. Un secondo fronte processuale coinvolge invece Di Carlo e Di Pietrantonio, accusati di essersi adoperati per l'indebito affidamento di dieci appalti inerenti varie manifestazioni artistiche in favore di summa. Anche in questo caso la contropartita sarebbe rappresentata da contributi illeciti e finanziamenti elettorali. Il terzo ed ultimo versante processuale, affiorato incidentalmente nel corso delle indagini, vede sempre protagonista di Pietrantonio, ma questa volta nelle vesti di dirigente della ASL, con l'accusa di avere pilotato, a beneficio di Simona Di Carlo, un concorso che prevedeva l'assegnazione di un incarico triennale. Secondo la nostra ricostruzione siamo di fronte in realtà a un'attività che ha visto unicamente l'assessore competente formulare una proposta indicativa relativa a un'artista di gradimento, è spettato poi al settore dirigenziale del comune di Pescara ed è spettato poi all'esito di una istruttoria accurata da parte di questo settore che si è fatto carico di valutare la conformità a legge dell'inmito di quel particolare artista alla giunta comunale, farsi carico del parere espresso da parte dell'ambito del settore dirigenziale e valutare quindi la conformità anzitutto a legge di quella proposta.